Ben trovati a telespettatori di TV6 con l'appuntamento quotidiano con il Tg dell'Aquila in apertura. La cronaca, ieri sera c'è stato un accoltellamento a Bazzano nella popolosa frazione dell'Aquila, la vittima dell'accoltellamento, un operaio che lavora da diversi anni nella ricostruzione. L'uomo è stato accoltellato per strada e immediatamente poi soccorso e portato all'ospedale San Salvatore dove le sue condizioni sono state riscontrate non gravi. Sull'episodio si sta ancora indagando e a occuparsi delle indagini è la squadra mobile della questura dell'Aquila del capoluogo che pensa che alla base dell'aggressione possa esserci appunto come detto un regolamento di conti a causa della droga oppure un litigio sul posto di lavoro. E parliamo oggi della protesta degli studenti che si è consumata in questi giorni e oggi ha trovato un epilogo in un lungo corteo. È terminata così la settimana di occupazione degli istituti scolastici cittadini da parte degli studenti aquilani che sono scesi in piazza con un corteo peraltro pacifico, colorato e molto animato. I ragazzi chiedono più risorse per la scuola pubblica e lo chiedono a gran voce. Sentiamo il servizio di Daniela Rossone. Contro la buona scuola di Renzi al termine della settimana di occupazione degli istituti scolastici cittadini gli studenti stamani hanno dato via ad un corteo colorato e pacifico che da Colle e Sapone, sede di Morte Scuole Superiore Aquilane, ha raggiunto il centro storico dell'Aquila. Allora questa settimana abbiamo manifestato contro la buona scuola noi abbiamo continuato appunto senza mai smettere appunto le nostre manifestazioni e ci stiamo facendo sentire. Diverse le motivazioni della protesta, gli studenti chiedono più risorse per la scuola pubblica e di non essere trattati come numeri in un'azienda. Noi ci sentiamo numeri perché loro stanziano milioni, 800 milioni per la scuola privata e la scuola pubblica chi ci pensa? Noi chiediamo solamente una cosa a Renzi di venire qui all'Aquila e vedere realmente la situazione com'è. E cambiamo ora argomento e parliamo di ricostruzione, in particolare la ricostruzione che non parte nelle frazioni dell'Aquila. Il TV6 sta facendo un viaggio attraverso le frazioni, quest'oggi è il caso di Arischia, un viaggio che ha fatto trovare una situazione veramente difficile, cantieri della ricostruzione fermi e soprattutto palazzi pericolanti. Vediamo il servizio di Filippo Trunca. Qui tutti fotografano ma nessuno ripara. Una vecchietta di Arischia, frazione dell'Aquila, accoglie con una sottile e amara battuta l'ennesimo turista delle macerie che qui viene a provare l'emozione del passeggiare tra erude e il silenzio lasciati dal terremoto. La parte antica di Arischia, chiamata il Colle, dove abitavano centinaia di persone, non vede infatti svettare le grude e la ricostruzione. Tra queste rue deserte invase dalle erbacce non si sente il rumore delle betoniere, della faccendarsi dei cantieri. Eppure sono passati sei anni e mezzo. Qua la ricostruzione è latente, non hanno fatto assolutamente niente, soprattutto anche sulla chiesa che era stato promesso che si faceva, però non è ancora niente. Ecco, questa è una cosa che non va bene per il paese di 2000 abitanti. Ma lo stato d'animo è vedere un po' di desolazione che c'è attorno con tutte queste case ancora diroccate che ci sono. Perché è una frazione dell'Aquila e secondo me danno prevalenza all'Aquila. Se fosse un comune a parte a quest'ora sarebbe già stato più a posto, secondo me. Anche l'abbazia di San Benedetto, tesoro del XII secolo, con la sua splendida chiesa romanica, è interdetta agli umani. Ora frequentata dai piccioni, che si introducono dalle parti crollate del tetto, il loro guano ricopre l'apsi, l'altare, il tabernacolo e le statue. A camminare per queste strade deserte diventa ora anche pericoloso lungo una delle vie principali aperte al traffico delle auto, infatti, il palazzo comunale del Seicento e il rischio crollo. Qui ci troviamo sull'antico corso del paese e questo è il palazzo comunale, il vecchio palazzo del comune. È un palazzo che comunque è a rischio crollo. Guardiamo le misure cautelative che furono prese dopo il sisma e che ormai sono inadeguate. Anche perché il legno che è stato posto è stato sottoposto anche comunque a tutte le intemperie del tempo, quindi neve, acqua e quindi possiamo vedere che tutte queste misure cautelative sono ormai inadeguate. Il luogo in cui si leggono parole di speranza è però lo storico Rione Fossato, decine di abitazioni agropastorali, tutti intorno a Piazza Beccia. Restano ora solo mozzicconi di pietre che ricordano un'area archeologica. Ogni anno chi qui abitava e chi vuole tornare si dà proconsesso e la ricostruzione è anche faccenda di cocciutaggine montanara. Ogni anno, sono già 5-6 anni, che i giovani che abitavano qua, su pressione dei vecchi, fanno una festa il primo sabato di luglio e riuniscono tutti quanti. Loro hanno scritto tutti i cognomi, i nomignoli di questo circondario e fanno una festa e sono invitati tutti i residenti, pure quelli che stanno a Roma tornano da Roma. E oggi ricorre un'altra data importante all'Aquila, ai 70 anni di Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edile, che ha festeggiato questi 70 anni di attività tra tante difficoltà, comunque anche derivate dalla ricostruzione post-terremoto, ma tutta la compagine dell'Ance si dice ottimista ed anche il presidente frattale in particolare e ancora pronto a portare avanti il lavoro duro che aspetta ancora i costruttori edili. Intanto è stata realizzata una scultura per la città che è stata posta in una rotatoria di Viale Corrado IV. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Era il 15 aprile del 1945 quando dieci padri fondatori decisero di unire le forze dei costruttori edili locali per formare un sodalizio che sostenesse la crescita della categoria. 70 anni di Ance dal 1945 ad oggi, con nove presidenti che si sono passati il testimone, sino all'attuale Gianni Frattale. Per i costruttori è un momento di grande festa, di gioia, di ottimismo, di speranza anche per quanto riguarda la città, il territorio, di speranza per la ricostruzione e per vedere rientrare tutti i cittadini. Questo è l'augurio che fa l'Ance. Dal 1945 ad oggi tanti scenari sono cambiati. Si parlava di ricostruzione anche allora, ma era quella post bellica. Poi il boom economico, l'importante ruolo dei costruttori, l'assistenza alle imprese e la ricostruzione di oggi, dopo il terremoto. Oggi in provincia dell'Aquila operano 2.000 imprese che danno lavoro a oltre 15.000 addetti. Da parte degli imprenditori, sottolinea Frattale, c'è ottimismo per la città dell'Aquila. Molti problemi appaiono superati, anche se c'è ancora molto da lavorare. Di momenti difficili se ne sono stati tanti e evidenziati. Oggi si sta in via di definizione e di risoluzione di quelle problematiche. L'Ance ha donato una scultura alla città, al ricordo di questi primi 70 anni, installata nella rotatoria della Rotonda, all'imbocco di Viale Corrade Quarto, alle porte della città. Una scultura realizzata dall'artista aquilano Adolfo Giusti. Un'opera interamente di bronzo. Poi in questa occasione, da tempo, che si voleva offrire una statua, una scultura, un qualche cosa, diciamo di rilievo alla città dell'Aquila, e finalmente si è verificato con il dono di questa scultura che verrà installata nella Rotonda di Sant'Anza. E ancora per la cultura parliamo di musica in particolare. Oggi un memorial per ricordare il compianto il dottor Massimo Gallucci, ma anche uomo di cultura, di spettacolo, un musicista eccelso. E tutto il suo gruppo, quello dei sale chiodato, lo ricorda oggi in un grande concerto in memoria appunto di Massimo Gallucci nell'auditorium della Scuola della Guardia di Finanza. Ripercorriamo tutti i passi con Daniele Rosone. Ricordare il professor Massimo Gallucci prematuramente scomparso a maggio come uomo e come professionista è l'obiettivo del primo memorial a lui intitolato che si terrà sabato 17 ottobre presso l'auditorium della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila. Evento organizzato dall'Associazione Culturale Teatro Immagine, dal Laboratorio Dietro le Quinte e dal gruppo Sale Chiodato. Il professor Massimo Gallucci ha lasciato un vuoto incolmabile per le straordinarie qualità e la complessità della sua figura. Medico radiologo interventista presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, professore ordinario di neuroradiologia presso la Facoltà di Medicina, padre fondatore dell'Associazione Italiana di Neuroradiologia. Ha scritto centinaia di pubblicazioni scientifiche, ma anche romanzi, testi letterari, di canzoni e poesie. Fin da ragazzo ha coltivato un'altra passione, raffinato musicista, ha contribuito a fondare un gruppo musicale di cui è stato leader full band, col quale ha effettuato per anni concerti per finanziare l'associazione Raoul Follero. Successivamente, dai primi anni 2000, è stato cofondatore del gruppo Sale Chiodato, insieme ad altri medici, col quale sino all'ultimo, con grande energia, ha effettuato concerti e ha pubblicato dischi. Ed è cominciata oggi, e andrà avanti per tutta la giornata di domani, il raduno provinciale dei Bersaglieri, sezione Santa Maria, nel capoluogo abruzzese. In particolare, domani, alle ore 9, a Piazza Battaglione degli Alpini, per meglio intenderci alla Fontana Luminosa, ci sarà la partenza della pattuglia ciclistica storica dei Bersaglieri, scortata dalle auto e dalle moto d'epoca. Poi ancora a seguire, intorno alle 10 ci sarà una sfilata lungo il corso e l'arrivo alla villa comunale, dove i bersaglieri renderanno omaggio ai caduti, ma dove sicuramente si esibiranno nel classico folclore di questo corpo. Ci spostiamo ora al calcio, per parlare dell'Aquila Calcio. Tra pochi minuti, infatti, inizierà la gara esterna dell'Aquila Calcio contro il Tutto Cuoio. Una sfida, ricordiamo, importantissima per i ragazzi rosso-blu che ha l'obiettivo, naturalmente, dopo quattro sconfitte, di portare a casa tre punti. I dettagli di questa partita, di quello che aspetta l'Aquila nel servizio di Gianmarco Menga. Vediamo. Ultima chiamata per rinascere. Tutto Cuoio l'Aquila non sarà una partita come le altre per i rosso-blu aquilani, chiamati ad una reazione dopo ben quattro sconfitte consecutive e con la voglia di dare un calcio a polemiche e negatività. Non sarà facile a Pontedera sul campo del Tutto Cuoio, a caccia di punti proprio come gli Aquilani. Sul fronte formazione, in difesa mancheranno Piva per infortunio e Andersor per squalifica. Per questo motivo, il tecnico Carlo Perrone potrebbe passare dal 4-3-3 ad un inedito 3-5-2 con Bigoni nel trio difensivo assieme a Maccarrone e Sanni e con Di Mercurio e Triarico sugli esterni. A centrocampo tornerà De Francesco dalla squalifica, mentre in attacco ballottaggio Ceccarelli-San Domenico per fare coppia con De Sousa. Lo scorso anno finì 1-1. A Conatè su Pavera di Zandrini rispose poco dopo Andrea Scrui con un pregevole destro a giro. E dal calcio passiamo al rugby. I giocatori del passato si sono radunati all'Aquila per rendere omaggio alla squadra per gli 80 anni di storia dell'Aquila Rugby ma anche per sostenere la campagna abbonamenti dell'Aquila Rugby Club. E quindi tutti insieme tra i fornelli hanno festeggiato, hanno fatto una rimpatriata festeggiando un terzo tempo tutto speciale a base di prodotti tipici della tradizione aquilana. Sentiamo le stelle del passato. È stata una bella serata chiaramente e cerchiamo di dare un sostegno morale e spero oltre a questi ragazzi che iniziano questo campionato, che hanno appena iniziato il campionato. Queste occasioni sono per rivedere un po' di antichi vecchi compagni di squadra e soprattutto conoscere questi nuovi che effettivamente conosciamo poco. Tutto quello che possiamo darlo lo diamo. Attualmente il gioco poi è un po' diverso, l'ambiente è diverso, la mentalità è diversa, però il rugby è sempre abbastanza simile pure ai tempi nostri. Di prima avevamo, ci divertivamo veramente con poco probabilmente. Avevamo gli allenamenti, ci vedevamo prima, dopo gli allenamenti. Ogni trasferta era una gita scolastica. Adesso se sali su un autobus del rugby stanno tutti con le cuffiette. Noi cominciavamo a giocare a Wist, si giocava da dove partivamo normalmente dal bar Scataglini o dal vicolaccio dove c'era la sede e finivamo quando arrivavamo a Pado, a Rovigo. E per concludere parliamo di basket perché domani un altro incontro per la Serie C alle ore 18 alla Palangeli per i ragazzi nel nuovo basket Aquilano che ospiteranno la capolista Termoli. Questa è la quarta giornata di campionato, i ragazzi scenderanno in campo un po' decimati privi dei due migliori marcatori del campionato Federico Granato e Lorenzo Carosi ma comunque nonostante le assenze pesanti i ragazzi hanno comunque attrezzato una squadra che cercherà di soddisfare il numeroso pubblico che riempie ogni domenica il Palangeli. Quindi ricordiamo l'appuntamento con il nuovo basket Aquilano per l'Aquila Termoli e per domani domenica alle ore 18 al Palangeli. Bene, con questa notizia è tutto per il nostro Tg dell'Aquila a me non rimane che ringraziarvi della cortesa attenzione e invitarvi a rimanere sintonizzati con i programmi della rete. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.